Un nuovo grande pacchetto in questa bellissima enciclopedia della nostra tradizione e della nostra storia. Parliamo delle bellissime musiche del maestro II Casadei interpretate magistralmente dalla storia di Romagna. Il terzo pacchetto di questa grande enciclopedia, tre nuovi cd con delle bellissime canzoni della nostra storia, della nostra tradizione. E all'interno di questi cd grandi successi come La Sfida dei Clarini, Partigiano, Io cerco Marito, Verso la Luna, Figaro in Romagna, Atomica a 60, Sabrina, Follia, Fiaccola e ovviamente La Grande Romagna Mia. Un'altra compilation che non può assolutamente mancare nel vostro grande archivio musicale di casa, anche in questo caso il quarto cd in regalo. Non mi stare vicino con le bellissime canzoni di Rosy Forte ed altri grandi artisti. Quattro bellissimi cd a soli 39 euro. Come sottolineo sempre, nemmeno 10 euro ogni cd e le spese di spedizione e di contrassegno le paghiamo noi. Ma questo perché vogliamo davvero che la musica arrivi a casa vostra perché è un antidepressivo naturale. Quindi eliminate le medicine e gustatevi della grande buona musica. Aspetto le vostre telefonate. Grazie. Grazie.